Non è stato sino a questo momento un mercato scintillante per la Sidigas Scandoni Avellino che ha dovuto fare i conti con diversi rifiuti da parte di giocatori italiani. I capricci di Davide Pascolo, su cui il club bianco-verde si era affiondato, hanno rallentato il processo di costruzione di un roster che sembra aver perso quella appetibilità che si è costruito nel corso degli ultimi tre anni. Se il 17 luglio l'unico vero acquisto si chiama Luca Campogrande, giovane di prospettiva, i conti non tornano. Un po' è colpa anche dei prezzi spropositati. Gli italiani, che si contano sul palmo di una mano, richiedono ingaggi elevatissimi. Era così all'inizio del mercato e lo è tutt'oggi. Gli Irpini lo scorso anno di questo periodo avevano già mezza squadra. Evidentemente su questa stagione pesano anche le tempistiche del club che avrebbe fatto prima a programmare il futuro. Il cambio di allenatore ha tolto tempo. Non ci siamo mossi immediatamente e questo ha visto Avellino perdere qualche occasione soprattutto per quel che riguarda i giocatori italiani. Adesso Alberani è a caccia di americani fortissimi a cuidare dei buoni ingaggi e a degli italiani di prospettiva. Il salto di qualità lo dovrà compiere poi coach Vucinic in palestra quando avrà tutta la squadra a disposizione. Il salto di qualità lo dovrà compiere poi